ciao sono alessio burchi oggi ti insegnerò come fare i franzai show with gangsta vado requisito numero uno avere pantaloni oversize di almeno due taglie in più e un pompon premesso questo arriviamo e mettiamo il piede davanti a questa altezza mentre il piede dietro lo mettiamo spostato tipo switch questo modo sparo le gambe in avanti ma compenso con il culo andando indietro io prendi piano e inizi a frizzare tutto qua come la madonna tarroni salve a tutti mi presento tom parker vi farò insegnare il trippi come si fa il trippi non è tanto difficile basta stare un po indietro e poi attenzione allora il piede dietro si metti qui in più lungo del tempo poi il secondo vicino alle vite poi quando scupa con i salti basta fare così buona sera la E tutti quanti sono l'istruttore delle Wall-eats Vi presenterò una sèche più al park, Samurai Skate Park Just Wall-eats Direttamente alla tavola I piedi li puoi mettere direttamente come un ollie Quindi semplicemente prendere e frattumare la tavola sul muro direttamente a questa maniera Chiaramente sempre rispettando la legge della fisica Quindi mettere sulla tavola, il busto eretto, sempre parallelo alla tavola E via difesa Alla prossima Alla prossima Alla prossima